carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore ci sconda l'universo la grazia del signore riempie la terra la grazia del signore avvolge ogni creatura come dice libro della sapienza signore tu non odi nessuno delle cose che create altrimenti non li avreste neppure create mentre il signore manifesta la sua gloria nella vita dell'uomo la gloria di dio è l'uomo vivente la gloria di dio è il figlio che ha creato al magine sua che riceve tutte le sue benedizioni dio è glorificato nel salvare nell'arricchirci né portarci alla perfezione dell'amore e questa è la visione fratelli che la scrittura offre a noi dall'inizio alla fine dio ama le sue creature per questo il figlio di dio scende nel mondo viene ad assumersi i peccati degli uomini per portare tutti a salvezza noi invochiamo lo spirito santo vieni spirito santo spirito di dio spirito d'amore entra nella nostra vita spirito santo manifesta la gloria del padre manifesta la gloria del figlio di dio gesù cristo signore nostro manifesta la tua presenza e conduce ogni uomo ad essere immerso nella luce che rischiare che illumina che vivifica che santifica e glorifica ogni creatura che accoglie il figlio di dio fatto uomo spirito del signore guidici anche alla comprensione della parola di dio che lui rivolge continuamente a noi perché ogni parola sia vita per noi sia fonte di salvezza e di grazia e tutto salga la gloria di dio padre del figlio suo gesù cristo in teo santo spirito tutto sia rinnovato e santificato a dio sia la gloria per tutti i secoli dei secoli amen un principio fratelli che abbiamo meditato nei giorni scorsi e che dio è amore e che lui è solo amore e che vuole donarci soltanto amore ma non l'amore l'anguido svenevole che manifestazioni di sentimentalismo dio è amore e vita e la vita e come tale ama ciascuno di noi non solo ci ama ma vuole agire e vuole operare verso di noi vedete la nostra mente umana è legata alla legge perché tutto regolato da regge normi regole come dice santo antonio di padua citando il libro della sapienza dio ha disposto ogni cosa secondo ordini pesi e misure ma non ha rinchiuso la sua misericordia in queste cose tutto è rinchiuso nella sua misericordia che risplende dappertutto dice il santo anche nell'inferno non facendo soffrire dannati tutta la pena che si sono meritati questa grazia del signore non viene con rinchiuso dentro i limiti perché dio è grazia quanti tu incontri gisù incontri la grazia di dio e questa grazia vuole operare noi appunto abbiamo una mente legata alla legge e allora siamo dominati del senso del dovere cosa dobbiamo fare anche nei guardi del signore ci chiediamo sempre che cosa devo fare signore che cosa devo fare io per avere la vita eterna chiede un giovane a gesù ma anche altri nel vangelo chiedono a gesù che devo fare che devo fare e la risposta di gesù è chiara fratelli credere nell'unigenito figlio di dio cioè lasciare che dio ti ami fino a donare gesù cristo per te questa è la risposta che ci dà il vangelo cosa devo fare lasciati amare non chiederti cosa devi fare chiediti signore tu cosa stai facendo cosa hai fatto queste cose stai facendo e cosa vuoi fare il mio favore per il mio bene questa è la domanda che vogliamo chiedersi porci perché perché dio agisce sempre dice gesù il padre agisce giorno e notte anche il figlio agisce sempre opera il nostro favore vedi adesso in questo momento il signore ti sta amando non solo ti stai amando ma sta operando hai un peccato ti sta perdonando hai una malattia ti sta aiutando ti viene in soccorso per cui la nostra prima preoccupazione fratelli prima ancora di chiederci cosa devo fare e dobbiamo porci sempre la domanda signore cosa vuoi fare per me cosa tu vuoi che io faccia e la prima risposta è una lasciati amare da lui lasciati amare lasciati lascia che lui si prenda pure di te lascia che lui ti soccorra lascia che lui ti riscaldi col fuoco del suo amore lasci che lui provveda ad ogni tua necessità lascia che lui si faccia carico dei tuoi problemi lascia che lui si prende le tue infermità le tue malattie questo fratelli è la prima risposta di fede che noi dobbiamo fare entrare nella nostra vita adesso il signore sta operando oggi il signore opererà per te domani il signore opererà il signore agisce oggi domani sempre non ti abbandona mai questa verità fratelli ci deve avvolgere e guidare i nostri pensieri i nostri affetti e guidare la nostra relazione col signore quando noi ci presentiamo davanti a dio presi dai doveri ci sentiamo tarpati limitati incapaci di assolvere tutte le necessità della parola di dio ma dobbiamo mettersi sotto l'altro dall'altro punto di vista lui sta operando per me e allora la parola che il signore ci rivolge è il frutto del suo amore nei libri dell'apocalisse che noi leggiamo oggi nella messa troviamo una visione di san giovanni che vede due testimoni questi sono due olivi e due candelabri che stanno davanti al signore della terra se qualcuno pensasse di fare loro del male uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici così deve perire chiunque pensi di fare loro del male essi hanno il potere di chiudere il cielo ricordate profe non fece piovere per tre anni e sei mesi tre anni e mezzo perché non cade pioggia nei giorni del loro ministero profetico essi hanno anche il potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorte di flagelli come avvenne per mezzo di mosè tutte le volte che lo vorranno e quando avranno compiuto la loro testimonianza la bestia che sarà dall'abisso farà guerra contro di loro li vincerà e li ucciderà i loro cadavere rimarranno esposti sulla piazza della grande città che simbolicamente si chiama sodomo ad egitto dove anche il loro signore fu crucifisso uomini di ogni popolo tribù lingua e nazione vedono i loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengono deposti in un sepolcro gli abitanti della terra faranno festa su di loro si rallegrano e si scambiano ad uni cosa voglio dire il signore con questo fratelli certo il libro dell'apocalisse è molto misterioso ma sta a indicarci che dio manda la sua verità sulla terra ma le potenze del mare si combattono il bene fino a farlo soccombere e questa è l'impressione di tanti anni che il male trionfi oggi fratelli voi vedete anche in mezzo a ragazzini bambini eccetera la volgarità la sensualità si sta diffondendo i valori dello spirito dell'amore vengono soffocati ma come si dice quel testo che questo ha un termine il male si scatena perché gli rimane poco tempo il male si scatena ma non può vincere può avere la l'apparenza della vittoria come dice la madonna in più riprese nelle sue manifestazioni alla fine il mio cuore immacolato trionferà proprio quando il male sembra dominare viene distrutto perché grande la potenza di dio ecco perché noi in questi giorni di stristezza di paura di sofferenza bisogna fissare lo sguardo su quando il signore sta facendo sulla potenza di dio e vuole fare nuove tutte le cose santificarci portarci alla perfezione a lui sia gloria per i secoli eterni amm signore gesù tu sei questo testimone fedele che porta salvezza l'umanità intera gli uomini hanno cercato di distruggerti ma tu sei il vincitore se il risorto il vivente per l'eternità e non vuoi più morire perché vive per il dio e tu chiedi anche a noi di considerarci morte il peccato ma viventi per il dio in cristo gesù nostro signore a te vergine santissimo fissiamo il nostro sguardo d'amore tu sei l'altro testimone e in mezzo alla terra suscita speranza l'umanità intera e a te facciamo ricorsa sapendo che in te c'è la pienezza della grazia e tu condividi con tutti noi fino a condurci alla pienezza della vita tutto questo allora le glorie dio padre del figlio tuo gesù cristo che vive e regna come sovrano per tutti i secoli dei secoli amen e la gloria del signore risplende su di voi fratelli e niente abbi a turbare neanche le potenze del mare che si scatenano abbi a turbarvi perché la gloria del signore e la nostra vittoria amen